GF VIP, Giorgio Ciupilana Verissimo, avevo paura di papà, era violento mia mamma mi ha salvato. Giorgio Ciupilana è stato uno degli ospiti del salotto di Silvia Toffannin. A Verissimo l'influencer di origini romene ha raccontato la storia della sua famiglia e i momenti difficili che ha attraversato con il papà che aveva problemi con l'alcol ed era violento. Giorgio ha detto che grazie a sua mamma è riuscito a cominciare una nuova vita in Italia. Giorgio Ciupilana Verissimo ha raccontato, i primi anni della mia vita li ho vissuti con mio papà in Romania perché la mamma doveva lavorare. Io sono sempre stato timido e il fatto che mio papà fosse un tipo violento non mi ha aiutato a crescere. Stavo male. Poi è arrivata la svolta, quando mia mamma ha scoperto tutto mi ha portato via di nascosto e mi ha portato con lei in Italia. Da quel momento in poi la mia vita è cambiata. All'inizio è stata dura perché non conoscevo la lingua ma poi mi sono ambientato. Giorgio ha poi confidato a Silvia Toffannin di avere avuto qualche problema con l'alcol perché non riusciva a controllare il desiderio di bere. Con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici, Giorgio è però, riuscito ad uscire da quel tunnel. Giorgio Ciupilan nel salotto di Silvia Toffannin ha raccontato di avere intrapreso la strada della televisione quasi per caso cominciando con il reality show La Caserma. Poi a distanza di qualche anno ecco la chiamata del grande fratello. L'influencer è rimasto dentro la casa più spiata d'Italia 134 giorni. Grazie. 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 Grazie.